Dunque, ciao a tutti, dal Piero della Francesca. Oggi voglio parlarvi di una cosa un po' particolare, voglio parlarvi di grandi lobby e di come le grandi lobby siano al cancro della nostra civiltà oggi. Perché dico che sono al cancro? Perché, provate a farvi una domanda, quando andate a comprare la Zara, quando andate a comprare la H&M, quando andate a comprare la C&A, da noi si chiama Zeunda, quando andate nei grandi magazzini di vestiario, quando comprate quella roba, siete convinti di aver fatto un affare, una bella maglia, un bel pantalone, 20 euro, 29,99, queste cose qua, no? Provate a chiedervi una volta, chi le produce, dove le produce, come le produce. Non è che costa un poco perché sono di bassa qualità, perché alcune sono anche di buona qualità. Perché hanno dei prezzi così bassi? Il problema è che la globalizzazione ha un po' destabilizzato, più che la globalizzazione, io direi le grandi multinazionali hanno un po' destabilizzato tutti i paesi, anche quelli benestanti, no? Cosa vuol dire? Vuol dire che vanno a costruire in posti come le Filippine, ipoteticamente, come le Filippine, come, non lo so, comunque posti come l'India, dove la Manopera costa niente, no? L'operaio lavora 10 euro al giorno per 30 euro al mese, 30 euro al mese sono niente, e poi va a fare un po' di spesa in una giornata che ha speso 4 euro, quindi, tanto per dirvi, ecco, questi sono gli operai di Zara, di Levis, di questa gente qua, no? Anche la Levis, anche la Nike costruisce in questo modo, e voi dite, ma che cazzo me ne frega, tanto lo fa là, non lo fa mica qua. Sapete cosa succede, però? Facendo queste cose là, succede che questa gente, questa gente e questi governi non hanno modo di crescere, perché la grande multinazionale ha bisogno di quelle leggi, se non ha quelle leggi ti toglie il lavoro, ti toglie il lavoro e quindi la gente non mangia, non lavora, non, insomma, via dicendo. Anche quel poco che hanno, loro credono che gli vala bene. Il problema è che mancando di diritti umani là, i diritti umani vengono a mancare anche qua, perché poi con la gente cosa succede? Si sposta in cerca di condizioni di vita migliori, e quindi vengono da noi, vengono in Italia, vengono in Germania, vengono in Europa, vengono in Europa cercando condizioni di vita migliori, e quindi arrivano qua, e quelli che arrivano qua in Europa si ritrovano nelle condizioni di dire si ritrovano nelle condizioni che le grandi lobby che sono qua mettono noi in concorrenza. Cioè, vengono da voi italiani, e vi dicono, senti, invece di darti mille euro al mese tra i loro novecento, se ti sta bene, bene, se non c'è quello che è appena arrivato dal Bangladesh, dal Bangladesh, perché Zara costruisce in Bangladesh, tanto per dirvi una, costruisce, fabbrica in Bangladesh, mi dice, ti va bene novecento euro al mese? Ti sta bene, ti sta bene, non ti sta bene, quello ne prende ottocento, ed ecco che si abbassano i diritti al lavoro, anche qua. Allora io mi domando, quando ci sveglieremo? Quando ci sveglieremo? Perché il problema sono le grandi multinazionali, le grandi lobby. Un altro problema, un'altra multinazionale dalla quale io personalmente, per una cosa mia, personale, non compro niente, è la Barilla. Io non compro niente che sia della Barilla. Ma perché? Perché, a prescindere che la multinazionale non più italiana è americana, il signor Barilla fa l'amministratore delegato, non è più proprietario. Questo è. Ma poi, e quindi, come multinazionale americana, non usa più grani italiani, usa grani, molto probabilmente, grani americani, quindi grani OGM, ma la grande confessione del signor Barilla è che, nella pasta c'è glifosato. Perché? Perché se no la pasta costerebbe 10 volte di più, se usassimo grano puro. Ma glifosato è un veleno. Il glifosato è un veleno. Ecco, queste sono le grandi multinazionali, di quelle di cui non gliene frega niente di voi. Quelle che per tenere bassi prezzi vanno a costruire in Bangladesh, fanno produrre, non solo in Bangladesh, in India, nelle Filippine. Il dato più preoccupante, adesso che parlavo di, dicevo le Filippine, noi spesso guardiamo, spesso guardiamo la televisione, sentiamo parlare di Trump, di Kim Jong-un, come cazzo si chiama, il presidente americano, il coreano, non coreano, abbiamo sentito parlare spesso di Saddam, Gheddafi, abbiamo sentito parlare di dittatori, abbiamo pensato, questi erano dittatori, sono dittatori, sono gente che è pericolosa per l'umanità. Ma parlavo di Filippine, sempre in un servizio di ieri, guardavo che il presidente filippino Dautert, Dautert mi pare si chiama, questo, nel suo discorso presidenziale, l'ho sentito io, ha detto chiaro e tondo, Hitler si è preso la libertà di uccidere 3 milioni di ebrei, qui abbiamo 3 milioni di tossicodipendenti, mi piacerebbe sgozzarli uno per uno. Questo è il più pazzo di tutti, fortunatamente non ha le armi, e non ha i mezzi per poter attaccare o creare una guerra, però questo è il più potente di tutti, cioè il più pericoloso di tutti, ideologicamente è il più pericoloso di tutti. Voi pensate se questo tipo di mentalità fosse nella testa del bombarolo coreano, o pensate se questo tipo di testa fosse nel... Trump l'ha definito il suo amichetto, il suo amico, quindi immaginate Trump con questa mentalità, con la mentalità nazista, il dato preoccupante è che noi diciamo, ma sì ma tanto quello è in Corea, quello è in America, quello è nel Filippino, l'altro era nel Kuwait, dove cazze era, l'altro è Libia, non ci preoccupavamo e non ci preoccupiamo più di tanto, perché non sono i nostri dittatori, il dato preoccupante è che oggi, stamattina avremo riusciti dal lavoro, leggevo un articolo, il dato preoccupante è che è un italiano su quattro, un italiano quasi su quattro, quindi parliamo del 24%, quindi un italiano su quattro quasi, vorrebbe per questi cinque anni, per i prossimi cinque anni, un dittatore in Italia, dato molto preoccupante, ma preoccupante perché, non perché un dittatore in Italia farebbe male, anzi, in Italia ha bisogno di una bella, di un bel colpo di frusta, per tornare in quella schiena dritta, il problema è che, in questo modo si ammette, si accetta che abbia fallito la democrazia, che è una cosa stupenda, se rispettata, la democrazia è una delle cose più belle che esistono al mondo, quindi è chiaro che definire fallita la democrazia, è una cosa veramente preoccupante, e il dato ancora più preoccupante, sapete qual è? è che un italiano su quattro vorrebbe un dittatore, ma che questo dato è in crescita, è in crescita, gente che vorrebbe Casa Pound, gente che vorrebbe un altro Mussolini, è un dato in costante crescita, lento ma in crescita, chiaramente io mi aspetto che nel 2017, nel 2018, con le prossime elezioni, insomma con un mondo che si incammina verso il 2020, insomma che va verso il futuro, mi aspetto che non si ripresentino mai più, fascismo e comunismo, non si ripresentino mai più, me lo aspetto di cuore, perché sono due concetti sbagliati, fondamentalmente sbagliati, fondamentalmente sono due concetti giusti, applicati nella maniera sbagliata, sia il comunismo che il fascismo, abbiamo visto i danni che hanno fatto, quindi chi ha applicato queste due ideologie, le ha applicate nella maniera sbagliata, e mi auguro che non ci si provi più ad applicarli, perché vorrebbe dire altre sofferenze, altri morti, quindi è chiaro che non può tornare il fascismo in Italia, né il comunismo, però è quello che la gente vuole, la gente rivorrebbe un dittatore per di più di estrema destra, e la cosa mi preoccupa, ma non preoccupa per quello che potrà accadere, perché un altro dittatore in Italia è impossibile, mi preoccupa perché la gente, la gente, se ritiene di aver bisogno di un altro dittatore, è perché non crede, non solo che non crede più nella democrazia, ma perché non ha voglia di impegnarsi, ha bisogno di qualcuno, vuole avere qualcuno che gli dice, ok, asfaparei, facciamo così, 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 punto, punto, qualcuno che decida per tutti, no ragazzi miei, essere, essere, essere parte di un paese, vuol dire partecipare, partecipare all'attività, non solo politica, ma anche sociale di quel paese, essere comodini, essere comodini, non va bene, non va bene, capite, non dovete delegare qualcuno che faccia per voi, dovete essere voi a fare, Kennedy, in un discorso stupendo, disse, non chiedetevi cosa lo Stato può fare per voi, chiedetevi cosa voi potete fare per lo Stato, ecco, queste sono le parole di Kennedy, tra l'altro, se fate una ricerca, Kennedy era di origini italiane, John Kennedy, quindi, quello che vi si chiede è di ragionare, di ragionare realmente, e di chiedervi voi cosa potete fare per il vostro paese, per il vostro paese, perché veramente, signori miei, questo paese è davvero, allo sbando, è davvero finito, se non ci diamo una sveglia, non ci diamo una mossa, questo paese va cadendo, va veramente crollando, e quindi, cercate in qualche modo di non sostenere le grandi lobby, no? Io d'altro, faccio un esempio, da canto mio, io non compro più la barilla, quando sono in Italia, non compro da Zara, né io, né la mia compagna, non compriamo dai grandi centri, si cerca sempre qualcuno che ci ripari l'oggetto che abbiamo, qualcuno che venda al dettaglio e non all'ingrosso, qualcuno che non sia il grande ipermercato come Zara, come co-op, come, cerchiamo sempre di comprare dal piccolo, dal piccolo, dal piccolo, questo è quello che facciamo io e la mia compagna, solitamente, quindi, vi si chiede di non appoggiare le grandi lobby, di non dargli denaro, comprando, da loro, perché questo vuol dire, continuare a sostenere, ragazzini, 12, 11, 12, 13 anni, che lavorano in Bangladesh, per 30 euro, vengono in Europa, e poi vengono in Europa, destabilizzando i vostri diritti, e allora bisogna non sostenere queste grandi lobby, bisogna cominciare a interessarsi in maniera attiva, attiva, alla vita politica del paese, io spero che abbiate un pochettino gli occhi, perché questo mondo è davvero malato, è davvero il cancro, un bacio a tutti, dal Pierola Francesca,